bella ragazzi sono Mark qui con Alex Nugent va bene commentare il suo quindi lasciamo introdurre questo GFX pack a lui di brutto allora bella ragazzi qui Alex e volevo dirvi che niente avevo promesso il GFX pack e quindi questo video per il GFX pack sotto vi lascerò il link in descrizione per scaricarlo e niente ci saranno delle texture dei suoni per i montage layout per il background poi delle immagini ovvio ovvio e poi delle immagini per modificare i bg e niente brushes pennelli per i bg sempre e delle font niente vai Max parla a te no che cazzo devo dire io aspettatevi tra pochissimo ma pochissimo due montaggi lunedì ci sarà l'introducing per i night e poi c'è stato internet with dub e poi che minchia devo dire ah giusto saranno caricati sia su solo i Mac che Marcozzo che sarebbe Marcozzo è il secondo canale ovvero soltanto per i morti dove lascerò il link in descrizione bene vedete che sei figo capisci tutto il volo e niente che Mac mi dovrebbe registrare delle due triple ah ti ho scritto quando vuoi si si mi devi registrare due triple una quad fatta su Mv3 su mission e e bom forse farò un mini edit clip di Black Ops queste clip che ho fatto su Mv3 perché non ho scheda di acquisizione quindi me le devono registrare niente bom devi dire qualcosa da te Max eh ma si che X terni o X è un figlio di merda e Chiara ti apre il culo detto questo e Chiara ti apre il culo detto questo e Chiara mi ha capo un'arma vuota vada e facciamo stare dai usa la tombettina facciamo finta di nulla mi ha capo un'arma vuoto a Chiara ti Mi ha capo un'arma vuoto al